Siamo con il direttore dell'Asle di Latina, Giorgio Casati. Buonasera, direttore. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie di aver risposto al nostro invito. Allora, prima domanda che sembra d'obbligo in questi giorni. Qual è la situazione in provincia legata al Covid? C'è un'unica emergenza o ci sono più emergenze in base ai territori? Allora, ci sono sicuramente più emergenze. Come ho già rappresentato anche in altre occasioni, noi siamo di fronte in provincia ad un contagio diffuso. Sono piccoli contagi che si sviluppano su tutta la provincia. C'è stata poi una fase precedente in cui abbiamo avuto a Formia quel cluster dell'imprenditore ittico che ci preoccupava molto e che poi è rientrato. Adesso invece ci sono questi tre comuni su cui effettivamente la situazione sembra essere da attenzionare con molto approfondimento e sono i comuni di Latina, Aprilia e Cisterna di Latina. Sugli altri comuni la situazione, non voglio dire che è tranquilla perché se no poi vengo smentito poi dei numeri di domani, chi lo sa, il numero di nuovi casi nel resto della provincia è ragionevolmente contenuto al di là della situazione di progresso dei singoli. Non so, per esempio, se prendo Cori, Cori oggi forse aveva uno o due casi, però comunque una situazione con un numero di positivi attivi sulla popolazione è importante. Però il fatto che pian pianino diminuisce il numero di persone che si positivizzano nuove fa ritenere che in questa età c'è una progressiva remissione della curva dei contagi. la procurano su quella filiera e poi, che vi dicevo prima, quindi Latina, Cisterna e Aprilia e poi c'è il tema di Itri che siamo in attesa tutti di capire che fine fa. E riguardo oggi, anche se è una cosa che non sta all'ASL ma più alle altre istituzioni amministrative e politiche, oggi però per la prima volta a livello nazionale diversi parlano di lockdown, è qualcosa che secondo lei dobbiamo attenderci nei prossimi giorni o bisogna aspettare per capire realmente qual è la situazione? Allora, guardi, io penso che il lockdown sia l'ultima chance, l'ultima opzione, l'ultima pallottola nel caricatore. Prima ne abbiamo altri strumenti. In primo luogo quello della responsabilizzazione delle persone. Io penso che arrivare a subire il lockdown, quando invece noi possiamo fare tanto per evitare che questo contagio si diffonda, è veramente, come dire, sarebbe una delusione immense. Come facciamo a pensare che non riusciamo a controllare i nostri comportamenti, non ridurre per due o tre settimane i contatti sociali pur avendo una vita libera e per questo, cioè per non riuscire ad avere questo controllo dei comportamenti, accettiamo poi di tre settimane un lockdown. Io spero che le persone siano così ragionevoli e responsabili da comprendere che questa cosa nessuno la vuole e faremo di tutto per evitare. Mi permetto di farle un'ultima domanda. La nostra trasmissione si intitola Zona blu e il sottotitolo è uno sguardo al futuro. Che futuro vede dinanzi a noi? Un futuro di convivenza col Covid per tanto tempo, purtroppo. È inutile che racconti balle. La curva in questo momento sta crescendo e quindi questo è un elemento di preoccupazione. Noi abbiamo ancora 5-6 giorni di maggio rispetto al resto della regione perché basta vedere il rinanzamento dei contagi per capire che a Latina, per quanto i numeri siano preoccupanti, sono propente alla popolazione più bassi del resto della regione e questo grazie anche all'ordinanza che abbiamo fatto, che è anticipato di qualche giorno il DPCM. Questo è il motivo per cui ne abbiamo un po' meno. Quindi la curva si alza di meno che da altre parti. è chiaro che non flette e quindi il fatto che non fletta vuol dire che se non facciamo nulla da qui a 5 giorni saremmo esattamente come il resto della regione, quindi con una situazione di assoluta preoccupazione. Questo in prima parte ovviamente resta significativamente. Quello che potrà accadere non è un lockdown, ma magari un'anticipazione del cosiddetto coprifuoco, 24, averle all'autunno, dico delle cose così, potrebbe esserci qualche intervento sul sistema dei trasporti, un'attività di controllo magari un po' più invasiva, impattante sulla vita delle persone, però non penso che si arriverà al lockdown. Quello che però succede se la curva cresce è che il nostro Goretti dovrà essere convertito integralmente a Covid. Questo con tutte le conseguenze che le persone possono immaginare. Penso che tutti abbiamo bisogno dell'ospedale, abbiamo bisogno della possibilità di accedere, di poter avere le cure e soprattutto, la grande maggioranza, per fortuna, della popolazione è che col Covid non ha avuto nulla o non ha nulla a che fare, ma però hanno malattie croniche, hanno tumore, hanno problemi cardiovascolari. Queste persone devono essere seguite. Noi faremo di tutto per non abbandonare nessuno, ma però la gente ci deve aiutare. Noi seguiamo questo appello che lei ci sta lanciando al senso di responsabilità e la ringraziamo davvero tanto per essere stato con noi. Grazie a voi, a presto.